Mi riconoscete? Sono Sergio, il Varano, l'investigatore privato che dà la caccia al Parkin Serial. Anche grazie al vostro aiuto la ricerca ha fatto passi da gigante. Abbiamo scoperto che il Parkinson è una malattia del movimento che si cura anche con il movimento. Il Parkinson è subdolo, si insinua nell'ombra e provoca gravi disturbi motori. L'attività fisica diventa fondamentale. La ginnastica o anche una passeggiata possono proteggerci dal Parkin Serial. Non l'avrai vinta! La ricerca continua. Aiutateci a combattere la malattia di Parkinson. Grazie a tutti!